Sì, grazie Fabio, buongiorno a tutti e anche da parte mia. Un saluto, me lo consentirete, lo faccio intanto ai colleghi promotori finanziari presenti in sala che ci hanno raggiunto non solo da Roma ma anche da luoghi più lontani. Ovviamente un saluto che rivolgo affettuosamente anche agli amici agenti di commercio che popolano questa sala come pure agli amici agenti immobiliari. E quindi grazie veramente di essere qui. Un particolare saluto lo faccio anche ai rappresentanti della politica. Vedo la senatrice Ricchiuti che saluto in particolare per essere qui con noi e so che poi altri ci raggiungeranno. Ma diceva il dottor Angelicchio che non voleva svelare sostanzialmente il contenuto di questo incontro di oggi ma direi che il titolo è autoesplicativo per cui si tratta soltanto di declinarlo. Io lo farò brevemente, ci siamo imposti anche di essere il più possibile sintetici ovviamente da un punto d'osservazione che è quello dei promotori finanziari. Quindi mi dovrete perdonare se io in un minuto ricordo che i promotori finanziari sono una categoria molto numerosa, oggi sono all'incirca 50.000 forse è stato un numero superato proprio in queste settimane iscritti all'albo pubblico, l'APF. di questi attivi in realtà sono una parte minore, l'associazione che ho l'onore di rappresentare l'ANASF è stata fondata 37 anni fa e ha oltre 12.000 iscritti. Ma in realtà sono proprio questi gli ambiti in cui la rappresentanza associativa mi verrebbe da dire la rappresentanza politica delle associazioni di categorie e quindi la rappresentanza degli interessi che le categorie esprimono nel nostro caso, essendo l'unica associazione presente nel panorama finanziario degli operatori si rappresenta i 12.000 iscritti ma per battaglie come questa di ANASARCO di fatto rappresenta un'intera categoria quindi io mi sento dietro la responsabilità non soltanto degli iscritti in sé quanto piuttosto di un'intera categoria ebbene dicevo il tema ANASARCO nasce da lontano e non volendo ripercorrerlo da quando ho iniziato però mi sia consentito di ricordare un paio di passaggi oggi noi ci troviamo di fronte, andando subito al punto a una situazione previdenziale per quello che riguarda la categoria che definire anomala, come pure la definisco, potrebbe essere persino un eufemismo perché? Perché è una situazione previdenziale che di fatto è caratterizzata dall'avere due previdenze obbligatorie di base quindi come è noto nel panorama della previdenza italiana ci sono casi di questo genere ma vi sono molte anomalie e una di queste rappresenta proprio la nostra categoria tra l'altro una categoria che come in qualche modo rimanda al tema ANASARCO rimanda al tema ANASARCO semplicemente perché quando si iniziò l'attività per poterla esercitare era necessaria l'iscrizione al ruolo agenti rappresentanti di commercio ma in realtà c'è una sorta di linea magino una sorta di momento topico direi in cui le cose sono cambiate radicalmente e questo è avvenuto ormai più di vent'anni fa con la legge sulle SIM, era il 91 e con la costituzione dell'albo pubblico per l'appunto ed era il 92 da quel momento sostanzialmente la figura del promotore finanziario si è evoluta di fatto attraverso un'indicazione precisa del legislatore in questo senso e quindi sì c'era questo riferimento ma è ovvio che è un riferimento che poi negli anni è via via scemato non dal punto di vista previdenziale già che questo doppio obbligo contributivo è rimasto tuttora ed è il motivo per cui tra gli altri oggi siamo qui ma c'è un'altra data importante il 1996 in cui al di là degli aspetti più squisitamente professionali l'albo il legislatore ha voluto intervenire sulla questione previdenziale stabilendo che per i promotori finanziari l'obbligo contributivo di base riguardava l'assoggettamento all'IMSS gestione commercianti peraltro con un'evidenza contabile a parte quindi da quel momento quando anche non volessimo considerare il 92 la nostra categoria ha un obbligo contributivo di base che è l'IMSS la decorrenza se non ricordo male era il primo gennaio 1997 quindi da lì sarebbe dovuto scaturire purtroppo mi devo esprimere in questi termini l'inapplicabilità ai promotori finanziari del regime proprio degli agenti di commercio questo dal punto di vista dei profili previdenziali vi è ancora un'altra data importante è il 2001 qualcuno potrebbe dire però che date lontane e lo sono effettivamente date lontane ma questa è l'ulteriore dimostrazione evidentemente che le date sono lontane rispetto a oggi e che quindi il problema essendo ancora presente è un problema serissimo perché in tutti questi anni non siamo riusciti a risolverlo o meglio noi l'avremmo voluto risolvere ma diciamo che non siamo stati messi nelle condizioni di farlo ebbene dicevo qual è questa data l'allora ministro del lavoro e delle politiche sociali nel 2001 attraverso un'analisi tra l'altro molto puntuale dal punto di vista civilistico affermò chiaramente la differenziazione che c'è tra la figura dell'agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario quindi voglio dire stiamo parlando del massimo livello di governo afferente al tema 2001 debbo dire che purtroppo non essendo accaduto poi nulla di concreto nonostante su questo versante noi non abbiamo lesinato energie lo testimonia tra l'altro tutta una serie di iniziative che qui non vi sto certo a raccontare attraverso le quali il Parlamento anche su nostra sollecitazione ha interpellato il governo in questo senso ma diciamo che questo non ha prodotto poi gli effetti che noi avremmo desiderato quindi permane questo obbligo di doppia contribuzione obbligatoria di base che è appunto un'anomalia è vero e qui veramente vado veloce che ci sono situazioni di doppia contribuzione previdenziale come dire acclarati e che possono avere la loro ragion d'essere perché? perché se si svolgono due attività distinte è evidente che ci possono essere due destinazioni distinte ma non è il caso dei promotori finanziari il cui reddito che deriva dall'attività professionale è un reddito unico che deriva da una sola attività quindi da questo punto di vista sostanzialmente è l'ulteriore dimostrazione che essendoci un'unicità passatemi il termine reddituale da questa scaturisce o dovrebbe scaturire un'unicità dal punto di vista della contribuzione non è così lo sappiamo e tra l'altro la situazione si è ulteriormente come posso dire aggravata negli anni perché nel settore si sono via via affacciati dei soggetti nel nostro settore e da ultimo in particolare provenienti dal mondo bancario c'è un fenomeno molto importante del bancario che diventa promotore consulente ma certo non mi dilungo su questo i quali ma non da oggi si ritrovano poi nelle condizioni di non aver versato gli importi minimi previsti dalla legislazione attuale e quindi sostanzialmente rientrano nella grande ambito molto esteso si parla di decine di migliaia di soggetti dei cosiddetti silenti ai quali peraltro non è consentito la possibilità di utilizzare quell'istituto più noto come totalizzazione sostanzialmente il ricongiungimento come sapete di diversi periodi contributivi su questo peraltro il ministero all'epoca utilizzò oggettivamente delle motivazioni molto capziosi quindi secondo noi stiamo persino in presenza di un quadro che potremmo definire persino incostituzionale per certi aspetti ma sicuramente iniquo sicuramente iniquo e poi c'è il versante ovviamente che ci preoccupa non da oggi per certi aspetti da sempre della gestione finanziaria dell'ente della fondazione Nasarco peraltro un tema che è finito sui giornali anche recentemente anzi c'è stata una costanza devo dire da questo punto di vista noi avevamo ben chiaro che già dal commissariamento del 2006 la situazione era all'epoca già pesante e nonostante ci siano state nel frattempo ben tre riforme 98 e 2004 poi so che su questi come su altri punti gli amici interverranno ci troviamo ancora in una situazione sostanzialmente deficitaria a parità di altre condizioni le prestazioni che eroga la fondazione sono più basse rispetto ad altre ma al di là di questi aspetti specifici l'ente si è imposto sostanzialmente attraverso un progetto ambizioso ma assolutissimamente discutibile e oggi lo sappiamo che è la dismissione del patrimonio immobiliare di trovare attraverso queste riforme e attraverso questi progetti quell'equilibrio finanziario di lungo termine che peraltro è previsto dalla legge sia trentennale sia cinquantennale mi potrei soffermare lo faccio solo un minuto per dire che cosa che intanto sul progetto Mercurio non solo noi ma molti di noi avevano contestato che quel progetto si basava su delle stime totalmente inattendibili ma aggiungo che tra l'altro è discutibile il fatto che venga dismesso per intero ma a parte questo e poi si attribuiva dal ricavato dal ricavato di queste dismissioni dei disponibilità di cassa dai quali sarebbero dovuti derivare dei flussi di cassa per meglio dire che già all'epoca erano ritenuti da noi e non soltanto da noi del tutto inattendibili ma lo sono vie più oggi in relazione al panorama complessivo della situazione e allora aggiungo qualora dovesse mancare qualcosa l'altro costo elevatissimo che incide sulla sostenibilità del bilancio della fondazione i costi per meglio dire che la fondazione stessa ha dovuto affrontare per la ristrutturazione del proprio patrimonio finanziario questo è un tema delicatissimo un tema scottante è un tema molto grave molto grave e ci permettiamo di sollevarlo o di dirlo sommessamente noi che qualcosa in tema e in campo di finanza dovremmo saperne questi sono tutti elementi che io ho cercato di riassumere ovviamente in pochi minuti e mi avvia la conclusione almeno di questa prima parte che ci inducono a sostenere con forza e a chiedere con forza alcune decisioni alcuni orientamenti che chiediamo al mondo anche al mondo della politica in buona sostanza i promotori finanziari ritengono che nonostante e questo debbo dirlo i tentativi di confronto di colloquio di contatto con la fondazione che però non hanno prodotto sostanzialmente nulla di concreto quindi nonostante questo noi riteniamo che intanto avere un mandato d'agenzia non significa da questo punto di vista essere sicchiett e semplice degli agenti di commercio sotto il profilo previdenziale e che quindi non si capisce il motivo per cui uno debba avere due previdenze obbligatorie aggiungo che su questo c'è un ulteriore paradosso nel paradosso perché noi che ci occupiamo di ciclo di vita di gestione delle risorse delle famiglie sappiamo bene quanto conta la previdenza complementare e integrativa noi siamo tra coloro che pur rappresentandola non ce ne possiamo o non ce ne siamo potuti fino a oggi dotare di fatto esiste un principio fondante che è la legge del 96 la 662 quella che istituisce appunto la posizione presso l'Inps quindi la volontà dei promotori finanziari è quella di utilizzare più proficuamente i contributi che ciascuno di noi versa in una logica non a ripartizione ma a capitalizzazione e ovviamente destinando quindi i propri versamenti in modo più fruttuoso per il futuro per tutti questi motivi riteniamo e concludo veramente assolutamente ormai non più rinviabile una riforma del sistema previdenziale che riguardi in modo particolare Nasarco perché sono troppe le criticità che lo contraddistinguono ed è per questo motivo che riteniamo sia giunto il momento non da soli ma insieme ad altri soggetti che seppur da diversi osservatori convergono nelle stesse destinazioni con gli stessi obiettivi riteniamo che ci siano i presupposti previsti dalla legge dalla normativa per chiedere di nuovo il commissariamento dell'ente in quanto sono pregiudicate in modo sostanziale gli equilibri finanziari di medio e lungo termine ovviamente mi riservo mi riservo di tornare su alcuni specifici argomenti qualora ce ne fosse il tempo chiedo scusa se ho rubato troppo tempo grazie